Andiamo, si comincia! Se ti sei appassionato con Arceus, se hai tremato per Zoroark, se hai lottato con Victini e sostenuto Reshiram, rimarrai stupito dalla forza glaciale di Kyurem. In arrivo, un'incredibile settimana di film Pokémon. Tutti i giorni da giovedì 25 aprile a mercoledì 1 maggio. In anteprima, Pokémon Kyurem e il solenne Spadaccino. Giovedì 25 aprile alle 18.15 in esclusiva su K2. Giovedì 25 aprile alle 18.15 in esclusiva su K2.